salve a tutti da casa del papi volevamo mandare un messaggio a mamma paola da parte di chicco lui si è andato a prendere già la patente perché dovrà guidare il taxi dog che lo porterà a cervia il 31 e arriverà a cervia il primo settembre salvo variazioni per il momento lì intanto si è preso la patente perché dovrà guidare fino a cervia non so quanta strada è chicco mi raccomando far bravo comportati bene rispetta i limiti di velocità e soprattutto mannaci saluti quando arrivi o quando arriverai ancora qualche giorno rimarrà qui da noi a casa del papi chicchetto ciao